Grazie, grazie Laura. Buongiorno al nostro allenatore, conferenza stampa della vigilia di Napoli-Milan. Mister Pioli, il Milan nel 2020 i punti li ha sempre fatti. Dopo il lockdown è cresciuto esponenzialmente il numero dei gol. 15 gol in 5 partite non sono un caso, sono un numero importante. Evidentemente la squadra li aveva nelle corde, li aveva un po' nel suo corpaccione. Che cosa li ha fatti emergere? Qual è stata la scintilla? Se di scintilla si può parlare. Era il numero che ci vedeva più in difficoltà perché non erano mancate le occasioni create ma era mancata la capacità di concretizzare queste occasioni. Il fatto di riuscirci con una certa continuità nell'ultima partita ci ha sicuramente dato grandi vantaggi. Siamo stati più precisi, migliori nelle scelte e con più qualità nelle conclusioni. Quindi questo è un dato molto significativo e importante che assolutamente dobbiamo provare a continuare. La sensazione che si ricava da fuori è che nel Milan di questo momento che si e Ben Nasser siano un reparto ancora più sintonizzato da quando giochiamo tra virgolette a due rispetto a quando giochiamo tra virgolette a tre. Che si quando si tratta di coprire come a Roma copre, quando si tratta di colpire come con la Juve colpisce, Ben Nasser cresce di gara in gara. La ripartizione del centrocampo, la crescita del feeling è un fattore che rende importante questa mediana del Milan, mister? Che il centrocampo sia un reparto molto importante nello sviluppo del gioco, in entrambi le fasi, questo sicuramente sì. E che le prestazioni di Ben Nasser e che sì siano di ottimo livello è altrettanto vero. Credo che si trovino bene in queste posizioni, in queste situazioni di gioco e ci stanno dando sicuramente delle ottime prestazioni. Qui a Milanello c'è un po' l'esempio storico di tanti anni fa di Fabio Capello e di Dejan Savicevic, senza fare alcun tipo di paragone, epoche diverse, situazioni diversi, mondi calcistici diversi. Però il tecnico che per il bene del talento e per il bene del gruppo stuzzica il talento ha questo esempio. Una percentuale, una sfumatura di questa dinamica la rivede, la rilegge nel suo rapporto con Raffaele Aho? Il talento è, Raffaele ce l'ha senza altro, ma il talento è innato, ma anche se hai un talento innato il talento va coltivato e allenato. Io sono molto contento di quello che sta facendo Raffaele, sta entrando molto bene, sta dando un apporto importante alla squadra. Continuo a spronare, a dire ai miei giocatori che non è così importante per quanto minutaggio si è impiegato, ma è importante la qualità del minutaggio. Continuando così Raffaele si toglierà senza altro delle soddisfazioni e darà delle soddisfazioni perché le potenzialità ci sono tutte e arriverà presto anche per lui il momento di giocare dall'inizio. Sky, prego. Buongiorno Stefano. Buongiorno. Ieri Zlatan Ibrahimovic ha detto se fossi stato qui dal primo giorno avremmo vinto lo scudetto, senza arrivare a tanto. Chiedo quanto rammari c'è di non essersi potuti giocare le prime sette di questo campionato, per come stanno andando le cose adesso? È inutile guardarsi indietro, è chiaro che il mio arrivo al Milan è successo, è capitato a ottobre, da lì abbiamo cominciato a lavorare, abbiamo fatto secondo me, non abbiamo avuto quella continuità che però è intrinseca al fatto che abbiamo lavorato poco insieme. Quindi ci vuole il tempo per costruire una cosa importante, per costruire comunque un modello di gioco, una filosofia, un metodo di lavoro, conoscere i giocatori, non solamente dal punto di vista tecnico-tattico ma soprattutto dal punto di vista caratteriale, come riuscire ad entrare in testa. Quindi ci vuole un po' di tempo e noi dobbiamo finire bene il campionato. Sette partite in venti giorni, non è mai successo che un campionato finisse con così tanti impegni, quindi ci sono ancora tanti punti, tante partite importanti a giocare. Domani abbiamo una importantissima e difficilissima perché il Napoli è una gran squadra, di qualità, con un allenatore che gli ha dato la mentalità giusta, che sta facendo un grande lavoro, che ha appena vinto la Coppa Italia, che ha vinto tutte le partite tranne con l'Atalanta. Quindi affrontiamo una squadra che sta molto bene, come stiamo bene noi, quindi dobbiamo pensare solamente a quello che possiamo fare da oggi fino al campionato e non quello che potevamo fare prima. Ecco, proprio su questo, avete battuto la Roma, avete battuto la Lazio, avete battuto la Juventus, che segnale darebbe il Milan se riuscisse a fare una grande prestazione anche a Napoli? Dobbiamo, dobbiamo fare una grande prestazione perché ne abbiamo le possibilità, ne abbiamo le qualità e giocheremo con grande rispetto all'avversario, ma dobbiamo giocare assolutamente con la convinzione e con la saperezza delle nostre qualità perché dobbiamo sfruttare questo momento, dare il massimo, giocare con continuità, stare dentro la partita e provare a fare bene anche domani. Lo scorso anno alla 31esima di campionato il Milan aveva 52 punti, quest'anno ne ha 49, era lo stesso momento un po' incerto, non si sapeva bene che cosa poteva succedere nel futuro, come adesso, anche Gattuso. Senti di condividere qualcosa con Rino Gattuso rispetto a quella che è stata la sua esperienza nel Milan lo scorso anno? Ma è difficile fare paragoni e confronti, intanto per cominciare Rino aveva cominciato la stagione dall'inizio, io no, a Rino ha fatto un ottimo lavoro qua, questo sicuramente come lo sta facendo a Napoli, sta dimostrando di avere delle capacità, delle grandi capacità di allenare bene le squadre, di farle giocare bene, di dare la giusta mentalità ed è quello che sto cercando di fare io al Milan, ma ho sempre pensato e credo tuttora, mai come adesso, che i conti si fanno alla fine e che quindi c'è ancora tanto da fare. Milan TV Ecco mister, mi ricollego un attimo, anche l'anno scorso il Milan i problemi li ha avuti nel girone d'andata, anche se l'allenatore è stato lo stesso dall'inizio alla fine della stagione, come lei stava ricordando. Anche il Milan di Gattuso, molto diverso dal suo, per tanti aspetti, era cresciuto molto nel girone di ritorno. È una sfida nella sfida, un po' braccio di ferro con i punti, con Rino, ha voglia di farlo? Beh, è un braccio di ferro con i nostri avversari, con il Napoli. Noi abbiamo ripreso bene dopo la pausa, ma abbiamo recuperato solamente un punto dal Napoli, perché il Napoli, ripeto, l'ha vinte tutte, tranne la sconfitta con la Coppa Italia. È una squadra di qualità e poi comunque fare raffronti con l'anno scorso, sono cambiati i giocatori. Noi abbiamo sicuramente migliorato la squadra da gennaio in poi, con degli arrivi importanti. Adesso si tratta di sfidare una squadra forte, ma farlo, ripeto, con convinzione, con determinazione, perché c'è da spingere, c'è da farlo fino al 2 agosto. La cosa importante e la cosa che mi dà più soddisfazione è che nessuno dei miei giocatori sta pensando, come sottoscritto al 3 agosto, ma sta pensando solamente a dare il massimo fino alla fine. Ecco, mister, adesso noi oggi siamo la vigilia di Napoli, però io ricordo bene lei quando si è seduto su questa stessa poltrona, questo stesso tavolo, il giorno prima di Lecce. Era la conferenza stampa prima della prima partita di campionato dopo il lockdown, eravamo stati eliminati dalla Coppa Italia, arrivavamo da tre mesi dopo la sconfitta col Genoa in cui di noi si era parlato in un certo modo. Lei si è seduto lì e ha detto noi puntiamo la Roma. E attorno a lei c'è chi ha strabuzzato gli occhi. E in effetti non sappiamo come andrà a finire, ma la Roma la sta puntando davvero sul campo. È un duello che ci porteremo avanti fino all'ultima giornata? Probabile. Io dico che se finissimo il campionato pre-covid eravamo settimi in classifica, dopo la sconfitta col Genoa, pur avendo fatto in queste cinque partite quattro vittorie e un pareggio siamo ancora a settimi in classifica, né io né i miei giocatori saremmo contenti di finire il settimo posto in questo campionato. Quindi dobbiamo provare a raggiungere quelle che ci stanno davanti e domani è una partita importantissima e la Roma comunque è abbastanza vicina, ma noi l'abbiamo già incontrata, l'abbiamo meritatamente battuta. Adesso dobbiamo provare a fare più punti in classifica, per provare a migliorare la nostra classifica, che non è credo quella che vorremmo che fosse a fine campionata. Mister, senza voler fare paragoni, senza voler fare confronti, mancherebbe altro. Però in questo momento, per il riconoscimento che le arriva dalla critica e dal mondo dagli addetti ai lavori, per la compattezza che ha col gruppo, per la risposta che ha col gruppo, per il miglioramento di tanti singoli del Milan, con le sue letture e riletture del nostro sistema di gioco, per la risoranza che dà il Milan, per la pressione che c'è sul Milan, è questo uno dei momenti più gratificanti come professionista della sua carriera di allenatore fino a questo momento, più appaganti? Ma vedi che la tua domanda arriva fino a un certo punto, fino a questo momento, e non conta niente. Conterà solamente le valutazioni finali a fine campionata del nostro lavoro, di quello che stiamo facendo. Io so che abbiamo lavorato tanto, che abbiamo lavorato di qualità, sicuramente, e che è un gruppo di giocatori che vuole fare bene. E questo spirito, questa mentalità, ci deve accompagnare fino alla fine. Poi dopo, alla fine, potremo trarre delle valutazioni più complete su tutto quello che abbiamo fatto. Quindi su chi ha fatto qualcosina di più, qualcosina di meno, su quello che sarà il risultato finale. Sky? Proprio su questo che diceva il collega, non pensi che siano state prese delle decisioni troppo affrettate? Cioè, i conti si fanno alla fine. Perché questi conti non sono stati fatti alla fine? Perché non vengono fatti alla fine, dopo aver visto il percorso? Ma questo non lo so. Non so se il club ha già deciso, se il club lo va a decidere. Ma, ripeto, in questo momento non è una mia preoccupazione, non è la preoccupazione di nessuno dei miei giocatori. L'unica preoccupazione è fare bene. Fare bene perché, ripeto, abbiamo... Qua a Mianello stiamo bene. Stiamo bene, abbiamo lavorato tanto. Adesso sembra che abbiamo lavorato bene solamente nel lockdown, ma non è così. Stiamo raccogliendo i frutti di un lavoro che è cominciato a ottobre. E dobbiamo fare di tutto perché alla fine noi rimaniamo soddisfatti. Noi e il club si rimangono soddisfatti del lavoro fatto. Poi dopo chi dovrà prendere decisioni le prenderà come faremo tutti. E su questo che hai detto è stato fatto un patto Milan, tra voi. Diamo tutto, 101% fino alla fine. Ma sì, perché a parte che non c'è bisogno di fare dei patti. Perché siamo dei professionisti, viviamo di passione per il nostro lavoro e ognuno di noi ha delle soddisfazioni, ha delle ambizioni personali che sappiamo che possiamo arrivarci solamente se lavoriamo di squadra. Ed è quello che stiamo cercando di fare. La domanda te la faccio su un singolo. Visto che anche Suma diceva che hai valorizzato tanti giocatori che erano un po' nelle retrovie, no? Non avevano visto tante volte il campo. Salama Kers è uno di quelli che invece, una volta che hai buttato dentro, ha dato delle risposte importanti da giocatori che può starci nel Milan. Merita la conferma ancora una volta? Ma tutti merita la conferma. Per come stanno i miei giocatori e per come stiamo giocando io ho varie possibilità di scelta. Però devo scegliere di partito in partita anche per quello che chiederò ai miei giocatori. Quindi può darsi che a volte ho chiesto all'esterno di stare molto aperto e molto profondo e quindi Salama Kers è il giocatore più adatto in questo momento. A volte potrò chiedere al mio esterno di andare dentro il campo per lavorare sia in fase difensiva sia in fase di possesso più centrale. Quindi magari se gli ho un altro giocatore. ma l'importante è che i giocatori stanno bene, sono pronti, che stanno dimostrando una volta chiamati di essere utili alla squadra. Grazie a tutti e buon lavoro. Grazie. Grazie.